Il Pescara riparte, il Teramo invece trema. Le due bruzzesi di Lega Pro vivono momenti diametralmente opposti. La parte finale del mese che dovrà portare all'iscrizione al prossimo campionato. Ufficiosi da ieri ufficiali da questa mattina, in casa Biancazzurra gli arrivi di Luca Matteassi come direttore sportivo e Gaetano Auteri come allenatore. Due tasselli indispensabili per iniziare a programmare la prossima stagione, i contratti ancora in essere e i rinforzi da cercare saranno gli argomenti sul tavolo. Perché per un allenatore come Auteri che ha nel 3-4-3 un vero e proprio credo vanno scelti giocatori specifici, cosa che ad esempio è stato fatto solo in parte lo scorso anno a Bari. Per quanto riguarda il settore giovanile, Giuseppe Geria e Pierluigi Ervese saranno confermati, come dice anche il presidente Sebastiani. E' una cosa che ancora non tocchiamo perché comunque sia abbiamo appena finito e soprattutto avevamo una priorità che era la prima squadra. Adesso nei prossimi giorni ci lavoreremo, però credo che Geria il lavoro fatto da queste due figure sia sotto gli occhi di tutti. Geria ha fatto uno straordinario lavoro in questi anni nel settore giovanile del Pescara. Gigi l'ho riportato io nel Pescara, quindi credo, visto che si dice sempre che faccio tutto io, credo che Gigi possa essere sicuramente l'allenatore della prossima stagione della primavera. E quindi non credo ci siano grandi novità, a meno che magari gli stessi non abbiano idee diverse o ambizioni diverse. Agli sgoccioli invece l'avventura di Andrea Gessa come team manager? Ma questa è un'altra cosa che dovrò decidere. Voi sapete il legame che io ho anche con Andrea, con tutti i ragazzi che hanno sempre lavorato con noi. Però credo che sia arrivato il momento di mettere un punto e di ripartire con una serie di figure perché poi negli anni magari ci si abitua e si rischia che le cose che si devono fare in un certo modo si fanno in maniera diversa. Nessuna novità invece per quanto riguarda l'affronte societario. D'altronde anche la discesa nell'inferno della Lega Pro non aiuta affatto. Si parla tanto, poi si incontrano persone e poi alla fine si stringe e non c'è nulla di fatto. O perlomeno non ci sono idee che collimano con le persone serie. Nel senso che tutti quanti noi vorremmo avere un aiuto, ma vorremmo avere un aiuto da gente che ha veramente la voglia di aiutarti e che ha intenzioni serie e soprattutto se lo può permettere. Questo è difficile da trovare. Soprattutto in piazze come le nostre che non sono appetibili sotto altri aspetti perché se permettete gli americani vanno a Parma, vanno a Pisa, vanno a Roma. Sicuramente Pescara che è una città che io non cambierei con nessuna di quelle che ho appena detto però non ha evidentemente la pille che hanno queste altre città. Tutt'altra aria invece a Teramo perché se a Pescara l'iscrizione non sarà affatto un problema in casa bianco-rossa è impossibile pensare al campionato che sarà perché dopo il comunicato di ieri mattina di Iachini la prospettiva di dover rinunciare alla terza serie concreta. Ovvio che dopo il rinvio dell'approvazione del PEF ci si attendeva una mossa simile. Iachini ha evitato di citare il piano economico-finanziario nel comunicato ma l'omissis non sembra aver sortito l'effetto desiderato perché la distanza temporale tra la seduta di martedì e la nota di 24 ore fa è troppo ridotta per non poter avere più di un sospetto. Peraltro si tratterebbe di mancata iscrizione al campionato, giocatori svincolati e anche Iachini stesso svincolato dal dover mettere in campo quello che manca per terminare i pagamenti di questa stagione che in quel caso sarebbero coperti dalla fideiussione. La somma che invece Iachini doveva assicurare più quella che immagina di dover investire per allestire una squadra che comunque andrà rinnovata sono fattori che avrebbe sopportato solo a condizione di avere un buon olis per ulteriori 59 anni. Appena fu scata questa prospettiva ecco la volontà di un passo indietro. Esattamente come lo scorso anno, la minaccia di non partire e poi la mini conferenza di pochi secondi per firmare dei fogli a beneficio di telecamere. È evidente che l'anno passato gli effetti erano stati più o meno desiderati. Quest'anno la mossa del o così o me ne vado è stato, possiamo dirlo, un vero e proprio buco nell'acqua. Tornare indietro adesso avrebbe persino maggiori controindicazioni. Non una grande scelta, non c'è che dire.